allora spacchettamenti del draft sono uscito la seconda la prima l'ho vinta ho fatto una bella partita stavo vincendo 1 a 0 l'ho persa 2 a 1 ma va bene così mi è piaciuta combattuta e niente i pacchetti sono questi un pacchetto due pacchetti oro normali e un pacchetto oro max vediamo un po lo spacchettamento cosa mi dà mi dà mi dà mi cazzo bubù sette mi dà bubù sette cucù vente cura e ru via quel secondo pacchettamento niente e che cazzo l'esterno sinistro caliguri dello schalke un pacchetto contratti ottimo un pacchetto contratti facciamolo subito e vediamo che contratti ci sono perfetti dai facciamo un po' di scuro per favore un po' di scuro un giocatore forte uno bello un is niente si uno nero uno nero uno nero uno nero si malli 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 il mio primo nero si 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 Grazie.